E adesso torniamo a parlare di soldi, in particolare di prezzi, con Paola Nosari. Vicino. Ciao a tutti. Ho una domanda subito per voi. Quanti tra voi hanno questa assurda ambizione di guadagnare col lavoro che fanno? Allora io sono Paola Nosari, insegno la consapevolezza attraverso gli strumenti della mindfulness e soprattutto oggi sono qui a parlarvi di soldi e di prezzi perché sono convinta che i soldi siano un meraviglioso strumento di realizzazione. Normalmente quando facciamo i prezzi il ragionamento tipico è ok quanto mi è costato produrre questo prodotto o servizio parto da quello e ci aggiungo una percentuale di ricarico. oppure ci soffermiamo a ragionare su quello che il nostro cliente è disposto a pagare analizziamo il mercato, il contesto guardiamo la concorrenza nella mia esperienza questi non sono tipicamente gli approcci migliori da tenere. quello che succede e che io consiglio è che prima di arrivare a definire il prezzo di un vostro prodotto o servizio è necessario passare attraverso due strumenti che ci hanno benissimo introdotto nei giorni scorsi Francesca il business plan e una analisi e una ricerca su noi stessi sulla nostra chiarezza di intenzione e di direzione su dove vogliamo portare la nostra attività perché se facciamo questo tipo di ricerca e di analisi arrivare alla definizione di un prezzo diventa più facile io credo che definire un prezzo sia un processo tipicamente quello che succede a me quando faccio questo discorso alle mie clienti è che le mie clienti trovano delle obiezioni la prima, la più tipica è ho iniziato da poco, non posso chiedere così tanto non posso chiedere troppo la più terribile di tutti lavoro sottopagato o gratis finché non divento più sicuro c'è un sacco di gente che accetta di lavorare al di sotto di quanto dovrebbe realmente farsi pagare il confronto di cui parlavo prima ci porta all'obiezione non posso farmi pagare più di Tizio o Kaya perché lui o lei è più esperta di me nella mia città o nel mio settore nessuno ha debita più di X euro per questo servizio e di conseguenza nemmeno io posso eh ragazzi dice tutto tipicamente ragionare in questo modo è la strada per restare al sicuro non fare quel viaggio di analisi e di ricerca su noi stessi sulla nostra identità su quello che vogliamo portare nel mondo in termini di qualità in un mercato che è affollato e rumoroso facciamo la fatica di farla questa ricerca usciamo dalla nostra zona di comfort torniamo un attimo a quello che è il titolo di questo mio intervento vendere al giusto prezzo giusto per te e giusto per il tuo cliente il focus è sulla parola giusto giusto in termini di correttezza anche matematica e giusto inteso anche come etico quando possiamo definire giusto un prezzo quando soddisfa sia te che il tuo cliente cioè non ti lascia insoddisfatto e recriminante perché è quello che succede quando accettiamo di farci pagare meno di quanto dovremmo tiene alta la tua motivazione rispecchia il valore che il cliente si porta a casa in cambio dei soldi che ti sta dando ed è sostenibile e se è sostenibile torniamo al discorso iniziale ce lo dice il business plan cioè i conti io non vi sto dicendo che non dobbiamo fare i conti dobbiamo averli già fatti quando formuliamo un prezzo se avete fatto tutto questo lavoro di solito richieste di sconti non ve ne arrivano o se vi arrivano voi siete così centrati da saperle gestire però nel caso facciamo un breve riassunto possiamo accettare di fare degli sconti se l'avevamo già preventivato nel nostro conto economico e se il conto economico ci dice che applicare quello sconto porta il prezzo ad una cifra che è comunque sostenibile se era già previsto dal nostro piano marketing se volete quel cliente in maniera specifica perché vi riposiziona o perché vi apre un nuovo mercato se volete promuovervi o farvi conoscere nel caso in cui si tratti di lanci di saldi di fine serie di prodotti o servizi che non riproporrete mai più e nel caso di clienti particolarmente affezionati sconto mai se lo fate perché avete paura di non portare a casa quel cliente perché nel momento in cui lo fate per paura quello che succede è che non state gestendo voi la trattativa e gli date il potere è di chiedervi ulteriori ribassi alla negoziazione successiva allora io vi suggerisco una volta che avete fatto tutto il lavoro che abbiamo dato per prerequisito di formulare i prezzi chiedendovi se foste liberi da qualunque tipo di condizionamento quale prezzo prezzo fareste al punto in cui siete ora per questo prodotto non è un approccio naif non vi sto dicendo di bruciare incensi aspettare l'ispirazione della luna nuova se vi fate questa domanda in modo onesto e soprattutto se siete disposti a rispondervi in maniera schietta e sincera il numero che ottenete di solito è coerente a tutto quell'impianto poi giocate un po' con questo numero provate a chiedervi una volta che l'avete sentito come vi sentireste se lo alzaste un po' e come vi sentireste se invece lo abbassaste tutto questo lavoro di sperimentazione questo gioco vi porta ad una definizione precisa di un prezzo equo il presupposto è sempre che voi siate onesti con voi stessi mentre finivo queste slide ho ricevuto la newsletter di francesca baldassarri non so se la conoscete io non la conosco di persona sono iscritta alla sua newsletter e mi ha fatto riflettere sul fatto che nel titolo mancava uno dei termini io nel titolo mettevo il prezzo deve essere giusto per te e per il tuo cliente il termine che mancava è che deve essere giusto e rispettoso anche dei tuoi competitor del mercato in cui ti muovi fare i prezzi secondo me è un atto militante quasi politico nel momento in cui formuliamo dei prezzi che non sono rispettosi del nostro lavoro e che quindi sono più bassi di quello che dovremmo realmente chiedere mettiamo la comunità in cui ci muoviamo nella condizione di fare un po' più fatica a chiedere dei prezzi coerenti concludo dicendo che per tutta la teoria che vi ho propinato oggi io sono profondamente convinta che fare i prezzi sia soprattutto una questione di mentalità ben orientata poi potete mettervi a giocare a sperimentare e soprattutto abbiamo già detto il prerequisito sono i conteggi il conto economico il business plan ma è soprattutto una questione di mentalità ben orientata grazie grazie paola grazie 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 grazie